Buonasera, 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 nervosissima, nervosissima stasera, non mi dite niente, perché lì c'è una nella regia che ci esce paratesta, quella è pazza, quella delle luci, la donna delle luci è pazza, è pazza, dopo faremo i conti, buonasera a tutti, buona domenica, buona domenica, signora buonasera, welcome, poco fa hai visto una col bellupare i minni? No, non è lei, non è lei, sono sue? Sono sue, madre natura le ha dotate così, ma perché uno è più nica e uno è più d'ossa? Come è combinata? Chirurgo cinese? Sono uguali? Prendiamo un calibro, le misuriamo? No, la testa sembra più grande, ma tu non parlare, tu proprio non parlare. Allora, volevo ricordarvi che sabato prossimo c'è un evento particolare insieme ai mercati generali, c'è una DJ brasiliana un poco pazza, figuratevi che l'ultima volta che ha suonato qua insieme ai mercati generali doveva fare la pipì e l'ha fatta sul palco, mentre suonava, ha allargato le gambe e ha fatto la pipì, quindi vi lascio immaginare che chi pazza è, noi non siamo nulla a confronto a lei, non si può fumare signorina, eh? Eh, non si può fumare, non l'accenda, perché sennò ci alziccono un tuo culo direttamente. Se lei è un po' sadomaso può anche provare piacere, lei è un po' sadomaso mi pare, no? No, proprio mi pare, non gli interessa, dolore? No, ho capito, mungimeno di minni? No, non ci potete fare niente, sarà per la prossima volta, quindi non accenda la sigaretta gentilmente. Allora, lei picchia a rire, non ha mai visto un uomo? A rire chi? Non ha mai visto un uomo? Ah, infatti, lei cosa gradisce, uomo o donna? E a rire? Scusi? Ah, lo decido io, ho capito, secondo me, ma, vediamo, salga, vediamo il pubblico cosa pensa che lei, si è comode, si è comode, venga, venga, noi ogni tanto prendiamo uno del pubblico, così a caso, vediamo se lei è un uomo o quel che si dice. Allora, secondo voi che cos'è? Cuda rotto, così come me, no, ho capito. Da dove viene? Noto. Noto, provincia di Siracusa, bellissimo, il barocco, lei è barocca pure, vero? Si accomodi, va? Noto, bellissima, bellissima Noto, bellissima. Allora, questa sera il nostro piccolo break show, Nautra dei Nani, Nani, quella dei Nani già l'ho raccontata, eh, ho capito, quella breve allora, quella breve, va bene, subito, subito, così. Ci sono due autobus che si incontrano lungo una strada, un pullman pieno di gay che vanno al Gay Pride e uno pieno di nani, e quello pieno di gay c'è scritto, abbasso la figa, e quello dei nani, magari, non l'avete capita? non l'avete capita? E arrivi tu sulla? E che quando sentono ficca un pochettino, infatti, non c'è la connessione, però non fa niente, facciamo. Allora, attenzione, attenzione, questa sera sono tutti maschietti, perché sono meccanici, e ora i viri quando sono maschietti, capita, capita, capita anche questo. Quindi ci vediamo subito dopo per commentare quello che combinano. Arrivederci! in collaborazione con Pegasus Club, presentalo... è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti